Durante il lontano 1792, nella città di Lussemburgo, due fratelli vennero imballati e rapiti da dei cinesi. Furono tenuti in ostaggio da Baba Iga e li avrebbe liberati solo in cambio di poderi, ma loro si rifiutarono. Allora lei decise di torturarli. Alla fanciulla vennero strappati i capelli dalla nuca. Mentre il fanciullo venne castrato, ma i fratelli non cambiarono idea. Allora lei, sconsolata, li lasciò andare. Solo in seguito i fratelli decisero di vendere i loro terreni a un prezzo molto caro ai vari migranti. Allora Baba Iga, infuriata, lanciò una maledizione al paese del Lussemburgo. Rendendo il cielo terennemente grigio. Fine.